e ciao a tutti ragazzi benvenuti qui in questo nuovo video bentornati su vrc generations pronti per continuare quelle che sono le nostre avventure nei rally siamo nel sector rally finlandia abbiamo fatto lo scorso episodio lo shakedown il super stage dove praticamente abbiamo scoperto che qui in finlandia si vola gli piacciono i salti si vola da far paura e siamo pronti per iniziare la prossima tappa harryu 2 km e 2 molto facile successivamente avremo 9 km e 6 prima del power stage da 21 km dai non perdiamo tempo allora dentro con la tappa da 2 km molto rapida da affrontare abbiamo 3 secondi di distacco dal pilota davanti a noi attenzione intanto la hyundai che se ne va ok è un circuito siamo in città d'accordo interessante 79 per cento asfalto 21 per cento terra andiamo allora dai 5 4 non tagliare 40 su ghiaia avevamo qui ok un attimo 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 avete ragione avete ragione avete ragione concentrati andiamo 100 tornante stretto sinistro non tagliare segnale interno 500 ok siamo andati molto più veloci qui vai 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 sinistra 5 stringi frena per secca destra apre non tagliare 40 su ghiaia ok non l'abbiamo fatta benissimo questa curva ma ok stiamo andando stiamo andando stiamo andando non male destra 4 corta in sinistra 3 corta all'incrocio 80 secca sinistra larga su asfalto non tagliare 70 ok ecco giuda attenzione stai a destra stringe dopo incrocio in sinistra 2 non tagliare 80 donna come l'abbiamo ottenuta destra 2 corta in sinistra 1 media in secca destra non tagliare 50 nonna guarda che gymkana incredibile 100 stai a sinistra porca puttana eh ma ti dal cazzo niente pericolo freno pesante persican destra 30 no non è gymkana comunque davvero in secca sinistra 30 e arrivo oh sinistra ok ok la fine era da era da capire era da capire la fine abbiamo fatto un po' un casino ma va bene pilota professionista addirittura addirittura così milosinghi milosinghi ok 10 secondi e mezzo 10 secondi e mezzo non male non male ci portiamo in testa 6 secondi e 9 bene 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 così bene così bene è arrivata la notte non si vede nulla che cos'è dov'è ok pronti a partire ma siamo matti non si vede un cazzo mamma mia sarà madonna del signore va bene va bene ci proviamo ci proviamo let's go guys 9 chilometri a 6 e poi dopo questa ci sarà il power stage 5 4 3 già 3 2 1 let's go guys non è cazzo siamo andati madonna del porco di salta stai a destra 100 destra 6 lunga stringi 200 senti mai detto destra salta stai a destra porca puttana mi sono messo a destra e c'era un cazzo di albero dai ma battene a fanculo che copilota di merda 1 sarà difficile ma noi proveremo proveremo a farcela sinistra piena su cima stai a sinistra in destra piena e dotti 150 io una cosa o meno ho capito i salti attenzione frena su cima per destra 2 stringi 50 per frenare sui salti dobbiamo dobbiamo frenare un po' perché altrimenti altrimenti muoriamo quindi occhio cima stai al centro 250 salta stai al centro e sinistra 6 su cima stai a sinistra 150 sinistra 6 su salta stai al centro 70 attenzione freno pesante per tornante stretto destro taglia molto 80 ok taglia molto così 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 è andata bene così è andata bene ok attenzione destra 6 su salta stai al centro in destra 6 media 80 sinistra 6 qui i salti dobbiamo farli piano perché è di notte non si vede un cazzo attenzione sinistra 3 contro pendenza su cima taglia chiude il 50 a parte che a prescindere anche se fosse stato giorno con i salti si vede poco però con il fatto che è di notte è ancora peggio e destra 6 su salta stai a destra in sinistra 6 su cima taglia 80 destra piena su cima stai a destra e sinistra 4 contro pendenza stringi 80 madonna c'è tutto comunque tutto in sinistra 6 200 attenzione frena per destra 5 su cima stringi dossi 100 sinistra 6 su cima in sinistra 6 su cima stai a sinistra stai a sinistra dovevo stare a sinistra dovevo stare a sinistra chiude 4 lunga stringi no sbagliato sbagliato destra 5 stringi in sinistra 6 su cima stai a sinistra 100 destra 5 media stringi su cima in sinistra 6 taglia e olè le penalità perché noi dobbiamo sempre dobbiamo sempre prendere le penalità perché altrimenti non siamo contenti niente noi senza penalità non riusciamo a starci che poi dico io no ma se io volevo continuare per riprenderla perché cazzo mi respawni ma non mi respawnare ma fammi stare lì ce la posso salvare destra 4 su salta stringi 100 oh no occhio salta stai al centro in attenzione frena destra 2 taglia 150 dosi stai al centro in sinistra piena su cima e sinistra 6 su cima lunga attenzione frena destra 3 taglia poco in ponte stringe 150 eh ma siamo andati molto lenti qua eh siamo andati lentissimi destra 6 sudosso stai a destra per sinistra 6 e attenzione sinistra 4 media sul cima non tagliare assolutamente 80 destra 6 120 siamo andati lenti e si è visto perché che non si vede un cazzo ragazzi c'è veramente veramente di un complicato salta stai a destra 80 dossi 60 destra 6 su cima stringi 100 sinistra 5 su cima taglia 150 non ci credo non ci credo non ci credo una volta che non ho frenato sul salto come ho fatto sempre ho detto vabbè vado un po' più tranquillo mi sono schiantato contro la roccia salta stai a destra 150 abbiamo un problema anche al motore sinistra 6 lunga su salta stringi 100 attenzione destra 3 taglia 200 niente destra 4 su cima stringi 100 eravamo partiti anche anche bene ma salta stai al centro e salta stai al centro adesso abbiamo problemi al motore problemi alle sospensioni su cima chiude stringi 150 non tiene non tiene più non tiene più non tiene più abbiamo perso tutto abbiamo perso tutto qui infatti non siamo andati per niente bene sinistra 6 attraversa palla interna 80 dossi 100 sinistra piena e destra 6 su cima contro pendenza stringi 150 stai a sinistra in destra 6 su cima dai già che non mi ha respawnato va bene mamma brutto 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 siamo arrivati secondi a un secondo e 4 di distacco 10 secondi di di penalità ragazzi ma che vogliamo fare ma che vogliamo farci abbiamo 12 secondi e 9 di vantaggio ma mamma mia penalità di 15 secondi è sempre dura è sempre dura abbiamo dei problemi perché adesso abbiamo veramente l'auto abbiamo l'auto distrutta e dobbiamo cercare di di sistemarla al meglio delle nostre possibilità facciamo così per non prendere penalità purtroppo abbiamo avuto dei danni irreversibili ora ci mancano 21 chilometri da affrontare e allora mettiamo le gomme nuove confermiamo e siamo pronti per 21 chilometri di power stage abbiamo lo stato dell'auto al 25% ci serve obbligatoriamente un evento manutenzione il problema è che non te li fanno fare e insomma proviamoci 21 chilometri tutta la Finlandia attraverseremo e speriamo di riuscire a cavarcela già che è di giorno forse è un pochino meglio però il problema è che non abbiamo l'auto nelle migliori condizioni abbiamo intanto lì c'è un trattore che va non abbiamo l'auto nelle migliori delle condizioni abbiamo questa tappa assurda da dover affrontare e abbiamo l'auto al 25% di stato tutto così greve però dai 21 chilometri non si fanno da soli dentro e si parte salta salta stai al centro in sinistra 5 stringi 3 2 1 andiamo che abbiamo già una sospensione morta in destra 6 corta su cima 100 quindi dobbiamo cercare di sinistra 4 su cima taglia in destra piena 80 dossi e attenzione destra 6 stringi in salta ok vai e attenzione salta in destra 4 chiude sul cima stringi 150 mamma mia vabbè ci siamo solo appoggiati dai salta stai al centro in salta in sinistra 3 apre lunga 200 ci siamo solo appoggiati va bene chi ha gli alberi uuu attenzione frena per sinistra 2 taglia tieni in sinistra piena ok vai così e destra 6 su cima 150 bisogna stare molto attenti qui eh salta stai al centro in salta stai a sinistra 150 destra 5 su cima tieni in sinistra 6 su cima 50 devo stare attenti soprattutto in questi su quei salta 4 secondi di distacco come cazzo è possibile centro e sinistra 5 media su cima stringi 50 salta stai al centro in sinistra 5 stringi in destra 6 stringi e salta stai al centro in destra 6 corta e salta 100 occhio sinistra 6 e destra 6 molto lunga non tagliare assolutamente su salta vai 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 in destra 5 e sinistra 6 su cima non tagliare in ponte stringe 80 attenzione attenzione frena per sinistra 2 taglia molto in destra 6 e cima stai al centro 80 niente ci si mette sempre la roba sul salta 100 sul cofano a noi attenzione sinistra 2 taglia molto apre il 100 taglia molto guarda lì c'era la roccia altro che taglia molto è una male che sono arrivato un po' lungo eh l'abbiamo recuperato i po' i secondi non male e destra piena in salta stai al centro 50 sinistra 6 su cima stai al centro in salta stai a sinistra attenzione frena per secca destra non tagliare 150 questo che devo sta a sinistra molto probabilmente eh vabbè 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 l'abbiamo tenuta in qualche modo in attenzione destra 5 corta su salta stringi e sinistra piena media in cima stai al centro e sinistra 5 media stringi 50 si ok ok attenzione sinistra 5 su cima stai al centro 200 riii 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 E in attenzione, sinistra 6, corta, su cima, stai a sinistra, 100. Destra 6, su cima, stai a destra, in sinistra 6, su cima. No, il guardrail, c'era il guardrail. E destra 6, destra 4, e destra 5, taglia, 200. Abbiamo sfondato la sospensione sinistra. Attenzione, destra 4, su cima, taglia, stringi, su salta, stai al centro, 100. Ok, dai, 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 dai. E salta, stai al centro, 150. Destra piena, stai a destra, 150. Attenzione, freno pesante, per tornante stretto sinistro, apre, taglia molto, 150. Ok, ok, bene, bene, bene. Questa è la parte che abbiamo fatto in notturna, ma al contrario. Destra piena, su cima, stai a destra, 70. Salta, stai al centro, 150. Cima, stai al centro, 100. Sinistra 6, corta, in sinistra 5, corta, taglia, e attenzione, frena, per destra 2, taglia, 50. Sinistra 2, stringi, su cima, 200. Ok, l'abbiamo rallentata bene. L'abbiamo rallentata bene, ottimo. Sì, stai al centro, e destra 6, su cima, stai a destra, 200. Alberi, uh, ok. L'abbiamo presi, proprio, distruscio. Destra 5, taglia, 150. Salta, stai al centro, e destra 4, non tagliare assolutamente. Stringi, stringi, su, salta, stai al centro, 50. Salta, stai al centro, 60. La roccia, la roccia, le rocce. Danno alla sospensione destra, danno al motore. Olè! Questa parte è molto stretta. Sinistra 4, corta, taglia, stringi, 120. Ci sono i sassi nascosti. Salta, stringi, 150. Nascosti in mezzo all'erba. Pericolosissimi. Attenzione, sinistra 3, su, salta, stringi, 80. Rossi, in salta, stai a sinistra, 80. No, no, c'era il salto qui in curva. Destra 6, su, salta, stringi, 50. Destra 6, lunga, su, salta, 100. Ok. Salta, stai al centro, 100. Destra 3, corta, apre, stringe, 100. Salta, stai al centro, 100. Non male, non male. Destra 6, in attenzione, sinistra 3, lunga, non tagliare, 80. Non tagliare, vabbè, non abbiamo tagliato, infatti. Ok, abbiamo guadagnato un altro po'. Apre, in sinistra 4, stringi, 80. Rossi, e destra 3, lunga, su, cima, stringi, 80. Destra 4, su, cima, conto, temercio, stringi, 150. Attenzione, frena, secca, sinistra, taglia, 200. Taglia, insomma. È sempre quello il problema, che ti dice taglia, ma... C'è poco da fidarsi. Sinistra 6, su, salta, stai a sinistra, indossi, 100. Salta, stai al centro, 100. Io lo rallento sempre, perché... Sinistra 5, corta, 150. E dai, calma, calma, dobbiamo volare. Non abbiamo le sospensioni, lo so, ma... Che ti devo dire? Dossi, 80. Sinistra piena, su, salta, stai al centro, 100. Destra piena, su, salta, 100. Che ti devo dire? Ok, ok, tieni, 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 tieni. Sinistra 5, molto lunga, su, salta, stai al centro, 100. Non riesco a rimettermi in strada, eh. Perché mi stava tutto a destra. Destra piena, su, dosso, e attenzione, frena. Destra 4, corta, su, cima, stringi, 100. Vabbè, penso che abbiamo perso pochi millesimi, quindi... Pochi decimi. Sosti, in destra piena, su, salta, 50. Sinistra 6, su, salta, molto lunga, 100. Occhio. Sosti, 100. Eravamo... volavamo via, lì volavamo via. Attenzione, frena, destra 3, taglia molto. Secca sinistra, apre, 50. Secca sinistra, chiude, su, cima, 50. Secca destra, balla interna, 70. Ok. Destra 2, corta, taglia poco, apre, 100. Ok. Sinistra 5, apre, 150. Bene così, bene così. Destra piena, su, salta, stai al centro, 100. Sinistra 6, su, salta, stai al centro, 100. Destra 6, lunga, su, dosso, stringi, 200. Attenzione. Salta, stai al centro, in sinistra 6, 150. Ok, bene così. Salta, stai al centro, in sinistra 6, molto lunga, su, cima. Madonna, ok. Siamo andati con la giusta parsimonia, mista velocità. Destra piena, su, salta, stai a destra, 150. Salta grande, stai al centro, 150. Eh, me la ricordavo da, dall'episodio scorso. Salta, stai al centro, 150. Prefisco rallentarle un po', ma non morire. Salta, stai al centro, 150. Cima, e destra 6, molto lunga, stringi, 200. Un attimo, perdere il controllo qui. Occhio alle rocce, nascoste, in mezzo all'erba. Attenzione, freno pesante, tornante stretto sinistro, intorno alla balla, stringi, 200, dossi. Ok, ok, va bene, va bene, va bene, fatta così. Va bene, fatta così, va benissimo. Sinistra 6, su cima, stai a sinistra, 200. Abbiamo, è arrivato, c'è un problema anche al turbo adesso. Praticamente stiamo arrivando, arriveremo al traguardo come la macchina di Crudel e De Mon, non avremo più niente, ci saremo solo noi e il volante, il sedile, e forse le ruote. Ok, mancano due chilometri, resisti, resisti, piccola polo. Resisti, piccola polo. Salta, stai al centro, 150. Abbiamo problema ovunque. Sinistra 6, lunga, su, salta, e sinistra 6, lunga, su, cima, stai al centro, 200. Dai così. Un chilometro alla fine di questo rally di Finlandia. Sinistra 6, lunga, su, salta, stai al centro, 200, dossi. Attenzione però, eh. 5, su, cima, lunga, stringi, 200. Non abbassiamo la guardia, gli ultimi 500 metri. No, sì, e sinistra 5, lunga, 200. E arrivo. L'arrivo, ce l'arrivo, ok, vai così. Bello, ok, ok, mamma, che fatica. 21 chilometri di... di sofferenza, ma bello. Bello, 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 bello. Bello, bello, bello. Ok. Ce la siamo portati a casa con 25 secondi e 8 di vantaggio. Non male, non male, però mamma mia. Minchia. Bene, ladies and gentlemen, ci siamo guadagnati la vittoria. Eccoci lì sul podio con la coppa del rally di Finlandia. Primo posto. Perfetto, così possiamo proseguire. Vediamo un po' come siamo messi in classifica generale. Uh, siamo terzi. È vero, vedi che Mikkelsen non c'era effettivamente nelle rally di Finlandia. Lui però si era fatto quello di Polonia. Ok. Noi purtroppo abbiamo avuto un ritiro in quello dell'Italia che, vabbè, ci ha portato a casa zero punti. Quindi sostanzialmente abbiamo un rally in meno. Però abbiamo sostanzialmente 29 punti da Mikkelsen. Impossibile recuperarli. Ci sono rimasti due rally. Grecia e Nuova Zelanda. Però va bene, però va bene. Come costruttori siamo quarti. Vabbè, costruttori purtroppo... Noi facciamo il nostro, ma sono gli altri che non fanno il loro. Possiamo andare avanti. Auto meno 33%, avevamo il 47%. Non vi lascio... Siamo in una situazione imbarazzante per quanto riguarda lo stato della vettura. Attenzione, l'indicatore stato della tua vettura è basso. Ma va? Ma va? Ma va? Non avrei mai immaginato. Allora, sblocchiamo il... Sblocchiamo l'ingegnere. Sblocchiamo anche il PR manager. Aumentiamo la soglia di riparazione. Cioè, l'auto può causare guasti meccanici. Ok. Obiettivi. Questi sono gli obiettivi. Vediamo un attimo gestione squadra perché abbiamo sbloccato anche l'ingegnere. E calendario. Fare riposo. Guarda, guarda, guarda. Non ti dà l'evento manutenzione. Non te li dà. Non te li dà. Non te li dà. Facciamo intanto l'evento riposo. È incredibile. Non ti dà gli eventi manutenzione. Ma uno come fa? Come fa? Come faccio? Come faccio se non me li dai? Guarda, non te li dà. Noi faremo il rally di... Il rally di Grecia con lo stato della vettura al 14%. Ragazzi. Con lo stato della vettura al 14%. Vabbè, ragazzi. Ci si penserà nel prossimo episodio. Che vi devo dire? Purtroppo non ci danno gli eventi manutenzione. E io i miracoli non posso farli. Io vi saluto qui. Vi invito a lasciare un like, un commento e di iscrivervi. Se non l'avete ancora fatto, noi ci vediamo in un prossimo episodio di WRC Generations. E ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale. Ciao a tutti, ragazzi.